Noi siamo il Daily People, esattamente come si tromunce in Italia. Signor Fumagalli, mi sconfile, mi voglio allegria, signor Fumagalli, cazzo. Noi siamo con uimi. Miبannah Bautista, Luca. Dima, Nadia sbaguli他的 consultation. Cosa,yz, paura. Noma,Dopi, tiña, nite, nite , s позволere dirai ad un Espírita, Nome,Ni, Nome. Nubei Oh Brokella In un po' di flotta Cheap' di singa per la la Toca Oh Ahdi Kanzapulets Ahdi Kanzapulets Ahdi Kanzapulets Ahdi Kanzapulets Ahdi Kanzapulets How to get that mess How to get that mess So can we walk through the road? 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione